Sostanzialmente giusto tra Cagliari e Atalanta, anche se la squadra sarda ha creato un maggior numero di occasioni per segnare. La partita non è stata bella, anche perché è condizionata dalla giornata calda che ha ridotto il ritmo di entrambe le squadre. Ecco, un'occasione cagliaritana, il tiro è di Riva, ma è rispinta dal bravo Maggioni, compianta, autore di ottimi interventi ormai battuto. Nel secondo tempo il Cagliari aumenta la pressione, ma l'assenza di Maraschi e le non buone condizioni fisiche di Riva gli impediscono di cogliere il successo. Due occasioni particolarmente propizie Prisardi, a Brugnera al quarto e a Gori al trentunesimo, tiro respinto dal palo. La squadra bergamasca, nelle cui file hanno esordito in serie a tre giocatori, Scirea, Picella e Vernacchia, avrebbe potuto anche cogliere il successo pieno, a quattro minuti dal termine, quando Bianchi prima e Vernacchia poi hanno clamorosamente mancato la palla sul passaggio di Pellizzaro. Sarebbe stata comunque una beffa.